Riportiamo alla luce l'antico forno dove si narra che nel 1889 è stata cotta la pizza in onore della regina. Partiamo da quella più antica che è la Mastunicola, una pizza priva di pomodoro solo con pecorino, strutto. Proponiamo due pizze margherita particolari, una con un pomodoro antico e l'altra basilico e mozzarella di bufala. Poi c'è l'altra pizza che è la marinara. Abbiamo ritrovato questi pomodori che venivano essiccati e poi cotti con dello strutto e poi messo sulla pizza con del formaggio che all'epoca era un caciocavallo. La scicevolezza, il gusto, il profumo, gli aromi sono dovuti alla tecnica dell'impasto. La missione era quella di recupero del luogo ma sicuramente di creare un indotto lavorativo anche con un modo diverso di concepire l'attività ristorativa. Qualunque figura che partecipa alla conduzione di questo luogo deve avere sicuramente una conoscenza culturale, deve essere proprio pregnato della bellezza e della storia di questo luogo. Siamo così contenti di aprire questo luogo, di restituirlo alla città e l'accessibilità di questo meraviglioso sito sarà facilitata dall'apertura della porta dei Ponte Rossi che è chiusa dal dopoguera, sarà aperta immediatamente in modo pedonale e poi si potrà accedere anche in macchina. Riportiamo alla luce l'antico forno dove si narra che nel 1889 è stata cotta la pizza in onore della regina. Partiamo da quella più antica che è la Mastu Nicola, che è una pizza priva di pomodoro solo con pecorino strutto. Sicuramente è un alimento che dà un carattere molto particolare alla pizza. Proponiamo due pizze margherita particolari, una con un pomodoro antico e l'altra basilico e mozzarella di bufala. Poi c'è l'altra pizza che è la marinara. Si dice che comunque i pescatori di Santa Lucia venivano accolti dalle loro consorti con questa pizza molto semplice. Poi abbiamo tutte le volte una pizza del mese con i prodotti legati all'orto. La classica margherita oggi viene fatta chiaramente in chiave materiale col pomodoro san marzano, fior di latte o bufala a seconda di quello che si preferisce, parmigiano reggiano, olio extraveggine e basilico. La più antica è quella fatta con dei pomodori, riscoperti da un'antica ricetta storica, diciamo così qui negli archivi storici della nostra struttura storica. Abbiamo ritrovato questi pomodori che venivano essiccati e poi cotti con dello strutto. Poi il ragù in chiave moderna potrebbe essere il ragù napoletano. E poi messo appunto sulla pizza con del formaggio che all'epoca non era il nostro fior di latte, adesso la mozzarella ma bensì si pensa a qualche cosa tipo un caciocavallo praticamente in questo caso. Quindi a fine cottura viene messo questa scamorza che ne abbiamo identificato nella scamorza già moderna dell'olio extraveggine e del basilico. L'asciocevolezza, il gusto, il profumo e gli aromi sono tutti dati dalla tecnica appunto dell'impasto. Realizzo i miei impasti con lievito madre, quindi c'è il dell'icoli all'interno dell'impasto, come si faceva un tempo praticamente la pasta madre eccetera. Oggi si è un po' ripresa questa idea e tutti i miei impasti vengono realizzati con lievito madre naturale e soprattutto vengono fatti a lievitazione naturale, quindi parliamo di lievitazione ambiente.